... Fermo, c'è un progetto per riaprire la fattoria sociale Monte Pacini, chiusa da agosto, che impiega soggetti con disabilità che torneranno a lavorare. Dalla collaborazione tra la Ollus Dokita e il Forum Nazionale dell'Agricoltura Sociale nasce una nuova iniziativa di supporto alle attività della fattoria sociale Monte Pacini di Fermo che ha subito grossi danni con il sisma. Vediamo il servizio di Chiara Paduano. La terra ha tremato e non ha fatto distinzione su chi e dove colpire. Il sisma del 24 agosto ha danneggiato anche la fattoria sociale di Monte Pacini a Fermo, sede dal 2012 del Centro Socioeducativo Riabilitativo per Ragazzi con Disabilità che da allora seguono un progetto di promozione dell'agricoltura sociale che da agosto è fermo a causa dei danni alla struttura provocati dal terremoto. È stato distrutto un forno antico utilizzato dai 16 ospiti del centro affetti da autismo, dalla sindrome di Down, come laboratorio per la panificazione. La scossa del 30 ottobre invece ha danneggiato le stalle degli animali della fattoria rallentando o bloccando le tante attività educative e riabilitative che prima del terremoto venivano organizzate. Ecco perché la ONG, Dokita Onlus e il Forum Nazionale Agricoltura Sociale si sono uniti per sostenere i ragazzi del centro avviando una raccolta fondi per supportare la fattoria e ridare vita a ciò che il sisma ha distrutto. Le donazioni possono essere fatte direttamente online dal sito della ONG www.dokita.org ma l'obiettivo è più ampio, spiega Irene Tognella, responsabile comunicazione della Onlus. Vogliamo organizzare nei prossimi mesi delle attività ludiche per i bambini sfollati del Fermano affinché all'interno della fattoria possano trovare un luogo protetto dove svagarsi, stare insieme e imparare a conoscere la natura e gli animali. Il nostro, è stato detto nel corso della conferenza stampa vuole essere un esempio di costituzione di una rete tra soggetti diversi impegnati nel terzo settore unendo ciascuno le proprie competenze con esempi concreti di solidarietà sociale. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, buona giornata.